bentornati nella serie più corrotta di youtube italia! infame! ma che cazzo! infame! 8.000 mi piace su questo video e non appena arriveranno arriverà subito una nuova sfida ciao ragazzi ben ritrovati! what's my value? chi vale di più ormai la conoscete perché la stiamo portando a cadenza settimanale questo c'ha un buccio di culo di quelli esagerati e li paga io ho pure i contatti con transfer market ci parlo io ho detto ma che ve paga? è che abbiamo perso il conto della sfida 6.000 stai 6.000 nel momento in cui io riuscirò a fare una vittoria allora mi interesserà vedere a quanto stiamo per il momento siamo tanto a poco iscrivetevi a tutti e due i nostri canali youtube al nostro secondo canale rod tu 85.000 iscritti fateci vedere il tuo vostro supporto ma mi raccomando attivate la campanella se non vi arriva le notifiche passate sul link in descrizione e scaricate gratuitamente la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio stiamo parlando di one football ragazzi e vi ricordiamo che è un'applicazione completamente gratuita sia per ios e sia per android quindi scaricate e provatela siamo sicuri che non ve ne pentirete fidatevi di noi detto questo a me forse manco si viste e baciava non so scordare un attimo dai su scegli tu e comincia tu la sfida è campione ormai fa principiante io non lo voglio fare io devo beccare vogliamo fare una cosa? che chi becca l'esatto prende due punti ok? va bene scegli vuoi fare la serie A? se hai incentivato non ho metto occhiali che incelevo almeno non so più dai famo una serie A va chi vuoi cominciare? no non hai cliccato riclicca come l'ho cliccato? e non è andata vai ok cominciate Ante Rebic e Fazzi Coulam Fazzi 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 più basso 7 milioni era particolarmente ovvio e va bene quindi 1 a 0 per te no non mi dici che hai dubbi perché te metto le mani addosso certo che ho dubbi vai vai tu dici che è più basso perché io non dico niente tu lo so che pensi che Patrick sia più basso Patrick 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 era quello del grande patente io sta convinzione non ce l'ho eh quindi vai allora sono indiceso di mettere identico perdi 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 o più alto? no perdi pia il culo pia il culo raga è la mia grande grandissima ha fatto un punto è la mia grande occasione per fare l'1 a 0 riprova per fare l'1 a 0 ma anche per vincere la partita capito? Rueg no Zueg anche se dei succhi di frutta ci avrei voglia più alto Luis Felipe 22 milioni e va bene basta dominar questa e ragazzi vado in show vabbè dai vabbè dai musacchio è più basso 7 milioni di euro è 1 a 0 per me adesso andiamo però per per il record mondiale il record mondiale con bulla vediamo gli usciti è più basso 3,8 milioni di euro andiamo avanti le donne e le zie è più alto anche se è de poco però è 10 io pensavo almeno 15 Giovanni Simeone Giovanni Simeone è molto più giovane ha fatto vedere cose importanti e sai che c'ho un po' paura? leggermente più basso no te la sei rischiata perché sai che ti ho vinto ok dai 1 a 0 va bene facciamo menu vai scegli tu no scegli tu perché io ho vinto vai no 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 scegli tu scegli la seconda sfida non mi interessa ti voglio dare l'opportunità di andare su 2 a 0 voglio che te senti sicuro ma che vai scegli tu scegli 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 mi rifiuto scegli ti rifiuti mi rifiuto vai scegli premier league ok vai perfetto vai insadiop yeah vai e mo che ci metti qua questo c'ha più capelli che io te dico che è più basso su William Saliba un po' più alto mi avrete detto 12-13 figurate va bene così Ferran Torres vabbè dai semplicissimo è un bel prospetto ma pure Saliba c'ha un bel valore di mercato sono 22 e mezzo io penso vabbè non dico niente io per Ferran Torres penso che valga di più dico di più però non so di quanto 45 io avrei detto 35 no 45 Rocco direi più basso 8 milioni avrei detto 15 ma va bene uguale Alex Oxley di Chamberlain ti ricordo che hai scadenza di contratto ah no non è lui no no non è lui ma sono sbagliato è Winaldon assolutamente Coleman io direi più basso 9 milioni e mezzo la fregna deduzia siamo già a 7 no a 6 siamo a 6 Rodrigo appena passato al East United 40 su che assolutamente sì ma pare che è proprio quella la cifra che hanno polpo ba ovviamente più alto il doppio 80 bocconotti cinzia 40 contro 80 Michail Antonio Antonio vabbè più basso voto Antonio assolutamente voto basso voto basso ecco dove ti è 100 sun più alto butto là 12 di poco ok Antonio Rediker più alto mi pare già e l'abbiamo capito dai vabbè insomma chi l'ha detto Neves dai su è semplicissimo secondo me il valore non è tanto più basso rispetto a secondo me è un po' porca puttana lo vedi 50 io ho detto 35 io pure avrei detto intorno ai 35 50 non me l'aspettavo assolutamente hai fatto 11 11 capirei che Adams c'è Adams contro Danny Ward io non io dico più basso 6 e mezzo era abbastanza no perché qua non si può mai sapere a me mi pioppano quelle Kyle Walker penso sia più alto ancora 40 non è male assolutamente ancora se sogno è Ryan se segno signori più basso di 40 25 ok io qua ci sarei cascato no 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 assolutamente Emerson Palmier questa è tosta questa è tosta questa potrebbe essere identico questa è tosta però guardando come ha giocato ultimamente io rischio più basso sì mamma mia sì mamma avete uno Pepe è più alto anche se ragazzi miei per quel che non ha fatto quanto l'hanno pagato 80 più basso 9 milioni e mezzo ok vale uno dei Gian Giacomo sarebbe sì quelli no sono tipo quelli dei di 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 esatto Moise Ken più alto secondo me a prescinde a meno una ventina li avrei assolutamente detti e ci sta è molto più alto pensavo di più più tanto più alto no anche perché non è più più alto 80 72 va benissimo così stiamo parlando pur sempre di Alisson Mahrez è più basso ma non di troppo 48 milioni di euro e mi va bene così Coleman è più basso l'abbiamo detto prima 9,5 milioni mi hai appena pareggiato eh mil me ne vado me ne vado me ne vado perché regà sto per sedermi sul cetriolo più grosso della mia vita no 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 ma hai pareggiato però eh si regà ma ogni volta che cala Cristo che arriviamo in una situazione così io prendo sempre la scelta più sbagliata Milner regà James Milner regà non so perché sono portato a di identico e dillo no non lo dice io ti ricordo è più alto ma devo devo dire il contrario di quello che penso daglie daglie che questa si è annullata dai che questa si è annullata non ci posso credere vai riproviamo sempre no riprova no vai a menù andiamo a menù dai giocatori ci mandano ma ci mandano trappini vai vai questa i campioni del ventuesimo secolo o i giocatori bravo questa qua vai i giocatori più preziosi del mondo vai Allan e Pellegrini dai semplicissimo semplicissimo un cazzo no questa potresti cadere in un tranello vai semplicissimo un cazzo non dire le parolacce vai e no che ti dico qua devi dire una cosa di più uguale stavanti oh mamma mia dai non so che cosa dire un attimo io di solito rispondo veloce ma questa veramente brucia pelo sbrucia pelamelo eh no non c'ho manco un'idea devi avvicinarle un'idea più alto mamma mia mamma mia tanti qua hanno rifiati Cristiano Ronaldo 60 va bene così mamma mia me la so me la so rischiata Mohammed eh dai su più alto ovvio ci sta pure a pensare cioè che pensavi oh Jordi Alba ragazzi miei mamma mia 40 quando il culo ti dice bene sui giocatori oh camavinga qua te voglio sto cazzo cioè ma davvero non sapevi che era poteva essere no 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 non li immaginavo bene così Carlos Soler la cintura piglia de sta cintura ma c'è culo ricordavo 40 te lo scuro becca de sta cintura Milan Skriniar mi sembra più alto 50 8 mai pareggiato 7 7 Rodrigo Bentancur porca putta per me è facilissimo per me è facilissimo mamma mia questa è peggio di Allan Pellegrini questa per me è facilissima questa è peggio ancora per me questa è super 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 facile più basso no lo sapevo io avrei detto più basso pure io lo sapevo io era per quello che ero indeciso riprova Skriniar guarda che culo vabbè sabbizzare più basso ma guarda l'onde tantissimo infatti c'avevo un po' dei dubbi ci hai fatto 7 giusto Renan Lodi più basso più basso oieee oieee dai che sei stupido lo sapevo non l'avrei mai detto dai che sei stupido lo sapevo 1 a 1 1 a 1 riandiamo su seria riandiamo sulla seria dai vai vabbè dai su rocerio faraoni faraoni mi sembra più basso no ma c'hai un culo pazzesco sei andato a caso santander più basso zitto zitto famo andavanti famo andavanti zitto zitto sturaro più alto de poco mamma mia tuttella rincón più alto seee 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 ho fatto 3 seee seee ho fatto 3 sta sfida alla cardiopalma comunque questo già è partito manca guardato ho già risposto 14 14 3 più alto dai che mo la sbagli la prossima dai che mo la sbagli la prossima dai che lo so che la sbagli ma guarda la puttana più alto più alto e no sicuramente è più basso sceee sicuramente è più basso seee ahahah wow 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 yeah 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 ma stavo 9 a 3 stavo 9 a 3 ma pure di più manco davanti stavo 9 a 3 mancava mi pregi un cazzo ma pure 10 pure 11 forse ciao ma che cazzo è lo sui butti non mi stavo fattare l'artificio mi stavo cagato addosso Ma che cazzo? Io pensavo che qualcuno stava a cagar chess Regà Come stava a scavare qualcosa da là? Vabbè andiamo avanti Ma dove va avanti? Più basso Voglio vedere che cosa combino Molto rapidamente Occhi chiusi Bianco più basso Oh guarda che cazzo Ma che è sta forno? Pasare il 14 Pasare il 14 25 Dai che faccio record mondiale regà Record mondiale Alto Alto Regà gli ha la famo Regà gli ha la fama Mazza 56 vale Più basso 28 28 Dai che sfioriamo i record del mondo Leo Più basso De poco ma è più basso Assolutamente sì Hernandez è più alto 45 Bocconotti Cinzia E potrei andare avanti All'infinito Non me lo devi dire te Lo so io Più basso 23 milioni di euro ragazzi Guardate il Gabbo Come sta Sciorinando Qua me dai su Stavo ora a pensare Stai zitto Più alto Pensavo che ne so 20 23 25 27 30 Non lo so Ma hai tratto in inganno tu Quando spengo il cervello Vabbè ho fatto 13 Era 14 il record Mi piace commenta 8000 mi piace e arriva subito un nuovo episodio Dai che ne recuperamo Dai che ne recuperamo Dai che lo mandiamo per stracci Commentate condividete Iscrivetevi al canale A tutti e due i nostri canali Cliccate cliccate Campanelle Campanelle Ciao 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 Ciao